Anatomia, apparato locomotore, muscoli del torace. In questo video analizzeremo sia i muscoli intrinseci del torace, cioè quelli che originano e si inseriscono nella sua compagine, sia i muscoli estrinseci, che, come potete già intuire dalla prima immagine, originiranno su strutture non propriamente toraciche. E cominciamo quindi con i muscoli intrinseci del torace. Si tratta di poche specie di muscoli. I muscoli elevatori delle coste sono visibili nel momento in cui si va a sezionare il torace e li si può osservare vicino alla colonna vertebrale. Questi muscoli sono tesi tra i processi trasversi delle vertebre toraciche, tranne l'ultima e dell'ultima vertebra cervicale, e i tubercoli e gli angoli delle coste sottostanti. Contraendosi, questi muscoli solleveranno la gabbia toracica. Questa funzione è conosciuta come funzione inspiratoria. D'ora in poi, tutti i muscoli che solleveranno la gabbia toracica saranno muscoli inspiratori. Altra classe di muscoli che si può riscontrare sempre in questo distretto sono i muscoli sottocostali, che originano dalla prima porzione di ogni costa e vanno a inserirsi all'incirca tra il tubercolo e l'angolo della costola sovrastante questa volta. Per questa ragione, i muscoli sottocostali, contraendosi, abbasseranno la gabbia toracica, portando quindi a una riduzione del suo volume e generando la funzione espiratoria. Tutti i muscoli che abbasseranno la gabbia toracica possono essere considerati quindi espiratori. Ma i principali muscoli intrinseci del torace sono gli intercostali, queste vaste lamine fibrose, queste vaste lamine muscolari, che sono tese tra una costa e l'altra. In realtà si tratta di tre stradi muscolari, si parla quindi di intercostali esterni, medi ed interni. Gli intercostali esterni originano a livello dei tubercoli delle coste e vanno a inserirsi all'incirca a livello dell'inizio delle cartilagini costali. Come potete vedere, il resto è un aponeurosi. Sono tesi tra ogni costa e quella sottostante, inclusa anche la dodicesima. Eliminando l'intercostale esterno si può notare l'intercostale medio, che invece origina un po' più posteriormente, a livello della linea ascellare media praticamente, e si inserisce a livello dello sterno. Eliminando anche l'intercostale medio si può osservare l'intercostale interno, che invece si estende dall'angolo costale alla cartilagine esternale, all'incirca come l'intercostale esterno. L'intercostale interno ricopre quindi la faccia interna del torace, andando a costituire forse la parte più interna della parete toracica. Esso infatti aderisce direttamente con la sua fascia alla fascia endotoracica, che è una struttura a diretto contatto con le pleure polmonari. Bisogna inoltre ricordare che nella sottile intercapedine tra l'intercostale esterno e l'intercostale interno, e quando presente l'intercostale medio, decorre il fascio vascolo nervoso intercostale, che poggia sul margine superiore della costa sottostante dello spazio intercostale. Questo accade per gli spazi intercostali dal primo all'undicesimo. Infine, ultimo muscolo toracico intrinseco, è il trasverso del torace, Muscolo multiventrale che si trova sulla faccia interna dello sterno. Origina infatti dalla faccia interna dello sterno all'incirca dalla metà inferiore del corpo, e con quattro digitazioni si porta sulle coste dalla terza a livello delle cartilagini costali. La sua azione sarà quella di abbassare la gabbia toracica, permettendo di fatti l'espirazione. Per quanto riguarda l'azione dei muscoli intercostali, che ho messo volutamente, non si può dire esattamente che siano muscoli ispiratori o espiratori, poiché alcuni gruppi di intercostali agiscono alzando la gabbia toracica, altri gruppi agiscono invece abbassandola. Si tratta quindi di muscoli con comportamento molto vario. Ma passiamo ora all'analisi di una serie di strutture più complesse, e quindi anche più interessanti. Si tratta dei muscoli toracici e strinseci. Come vedete, sono parecchi, e sono anche di forme e strutture piuttosto variegate. Andiamo quindi a vederli ad uno ad uno. Li divideremo in classi per descriverli. Avremo muscoli toraco-appendicolari, muscoli spino-appendicolari, muscoli spino-costali, e infine avremo un ultimo muscolo che fa gruppo a sé, il diaframma. Cominciamo quindi dai toraco-appendicolari. Il grande pettorale è il muscolo principe della parete toracica anteriore. Come potete vedere, è un vasto, vasto muscolo, che la copre quasi tutta, specie nella sua porzione superiore, ma che non ha la sua inserzione sul torace, per questo viene classificato come strinseco. Si descrivono all'interno del grande pettorale tre regioni. Una regione detta clavicolare, che origina dalla metà mediale della clavicola. Una regione detta sternocostale, che origina dalla faccia anteriore dello sterno e dalle prime sei coste. E infine una regione detta addominale, che è questa, che si fonde con la guaina del muscolo retto dell'addome. Le tre inserzioni, le tre origini del muscolo grande pettorale, si uniscono in un unico e vasto ventre, che andrà a confluire in un unico tendine, che si inserirà a livello del solco bicipitale dell'omero. Il muscolo grande pettorale, con la sua azione, adduce e ruota medialmente l'omero. Inoltre, se fa perno sull'omero, solleva la gabbia toracica. E di particolare interesse, il triangolo che si viene a formare tra il muscolo deltoide e il muscolo grande pettorale, che prende il nome appunto di triangolo deltoide pettorale, all'interno del quale decorre una grossa vena del braccio, la vena cefalica. Eliminando il grande pettorale, si vede subito al di sotto un altro muscolo, il piccolo pettorale, che invece origina dalle coste 3, 4 e 5, con tre digitazioni, per andarsi a inserire sul processo coracoideo della scapola. Un muscolo molto più piccolo, quindi, anche se si considera che origina dalla prima porzione delle coste e non dalle cartilagini costali, la cui azione è quella di sollevare la gabbia toracica, facendo quindi da muscolo ispiratorio, e al contempo quello di abbassare la spalla. Esiste poi, sempre tra i toraco appendicolari, il muscolo succlavio, questo piccolo muscoletto, che origina dalla faccia superiore della prima costa per andarsi a inserire sulla gran parte del margine inferiore della clavicola. Questo muscoletto sarà in contatto con la succlavia, sia vena che arteria, e con alcuni rami del plesso brachiale. La sua azione consisterà nel portare in basso in avanti il cingolo scapolare attraverso la clavicola. Un muscolo di particolare forma è il muscolo dentato anteriore, un muscolo molto grande, che origina con dieci digitazioni dalle prime dieci coste, le quali si uniscono e vanno a formare un unico tendine di inserzione sul margine vertebrale della scapola. Questo muscolo abbraccia quindi la gabbia toracica, formando gran parte della parete del cavo ascellare. La sua azione sarà prevalentemente di sollevamento della gabbia toracica, può essere considerato quindi un muscolo inspiratorio. Inoltre, è capace di portare la scapola in fuori e in alto, facendo perno sulle coste. Questo muscolo contrae un sacco di rapporti importanti, primo fra tutti l'interdigitazione con alcuni dei muscoli addominali che vedremo nei prossimi video. Passiamo ora alla descrizione dei muscoli spino-appendicolari. Come potrete immaginare, si tratta soprattutto di muscoli posteriori. Cominciamo con un grosso, grosso muscolo, il trapezio. Il trapezio è un muscolo pari e simmetrico, di forma appunto vagamente trapezoidale. Origina dal terzo mediale della linea nucale superiore, dal legamento nucale, dai processi spinosi delle vertebre cervicali ed anche delle prime toraciche, e dal legamento sovraspinoso, per andarsi a inserire lateralmente, sul margine posteriore della clavicola e sul margine mediale dell'acromion, nonché sull'estremità mediale della spina stessa della scapola. Questo enorme muscolo con la sua azione eleva e adduce la spalla. Oltretutto, può anche lavorare stendendo la colonna e ruotando la testa dal proprio lato. Inferiormente al trapezio, sempre tra i muscoli spino-appendicolari, troviamo il muscolo grandorsale, che come dice il nome stesso, è un muscolo grande. Origina dalla faccia posteriore del sacro e anche in parte dalla parte posteriore della cresta iliaca. Origina inoltre dai processi spinosi delle vertebre lombare e delle ultime toraciche. forma un amplissimo ventre che andrà a inserirsi sul solco bicipitale dell'omero. Questa vasta lamina carnosa, contraendosi, agisce adducendo e ruotando internamente l'omero. Inoltre, prendendo punto fisso sull'omero, solleva il tronco e le coste, agendo quindi anch'esso da muscolo inspiratorio. Abbiamo poi il muscolo romboide, da molti diviso in romboide superiore e romboide inferiore, oppure romboide minore e romboide maggiore. Complessivamente, il muscolo romboide origina dal legamento nucale e dai processi spinosi delle ultime vertebre cervicali e prime toraciche per andarsi a inserire sul margine vertebrale della scapola. La sua azione porta la scapola medialmente. E per concludere i muscoli spino-appendicolari, abbiamo l'elevatore della scapola, che origina dalle lamine posteriori dei processi trasversi delle prime quattro vertebre cervicali per inserirsi sull'angolo mediale e in parte sul margine vertebrale della scapola. La sua azione eleva e porta medialmente la scapola, oppure prendendo punto fisso sulla scapola, estende ed inclina dal proprio lato il collo. Il gruppo dei muscoli spinocostali, poi, è costituito solo da due muscoli, che sono i dentati posteriori. Il dentato posteriore superiore origina dai processi spinosi delle ultime vertebre cervicali e delle prime toraciche, e ovviamente anche dalle strutture legamentose tra queste presenti, per andersi a inserire, con quattro digitazioni, sulle coste dalla seconda alla quinta, a livello dell'angolo della costa. La sua azione è quella di sollevare la gabbia toracica, funge quindi da muscolo ispiratorio. Al contrario, il dentato posteriore inferiore origina dai processi spinosi delle ultime toraciche e prime lombari, per andarsi a inserire con quattro digitazioni sulle ultime quattro coste, sempre a livello dell'angolo. Con la sua azione, il dentato posteriore inferiore abbassa la gabbia toracica, fungendo quindi da muscolo espiratorio. Una piccola nota di fisiologia della gabbia toracica. Come di certo avrete notato, finora abbiamo parlato di muscoli che, elevando la gabbia toracica, ne aumentano il volume e quindi consentono l'ispirazione. Ed i muscoli che, invece, abbassandola, ne riducono il volume, consentendo quindi l'espirazione. Avrete però anche notato che i muscoli ispiratori superano di gran lunga in numero i muscoli espiratori. Questo per una semplice ragione. L'ispirazione è un processo attivo che richiede una forte attivazione muscolare. Questo perché il polmone in sé è una struttura elastica che tende ad avere una forza di richiamo tale da tendere a uno stato contratto. Quindi bisogna fare forza per espanderlo. Ma basta rilasciare questa forza perché il polmone ispiri automaticamente, ritornando a contrarsi, come una spugna. L'esistenza dei muscoli ispiratori è legata al fatto che, talvolta, è necessaria un'espirazione maggiore di quella che il polmone ha intrinsecamente per sua stessa forza di richiamo. A questo punto possiamo passare a vedere l'ultimo muscolo toracico che è il diaframma. Basta una rapida occhiata per capire che il diaframma non è un muscolo come gli altri. Innanzitutto si presenta di forma copolare, ha un vasto centro tendineo e soprattutto è impari e mediano, cosa rara per un muscolo toracico. Si può anche notare che perfino la definizione di muscolo toracico non calza a pennello. Questo perché il diaframma non può essere considerato un muscolo esclusivamente toracico in quanto rappresenta una vera e propria parete che divide la cavità toracica da quella addominale. Questo muscolo presenta oltretutto degli orifizi all'interno del quale passeranno le strutture che attraversano sia l'addome che il torace e principalmente si parla della vena cava, dell'esofago e della orta. Come tutti i muscoli però il diaframma ha delle inserzioni che possono essere classificate vista la grande vastità di questo muscolo. La parte lombare è quella che presenta le inserzioni più variegate. Abbiamo due pilastri a livello lombare. Abbiamo a livello lombare per ogni lato ben tre pilastri. Il pilastro mediale destro scende in basso fino a raggiungere la quarta vertebra lombare. mentre il pilastro mediale sinistro solitamente si ferma alla terza. I pilastri intermedi sono strutture piccole e solitamente originano dal corpo nella sua parte superiore della terza vertebra lombare. Mentre i pilastri laterali hanno delle strutture particolari. Mentre i pilastri laterali originano dai processi costiformi della seconda vertebra lombare e andranno a formare una struttura detta arcata mediale e una struttura detta arcata laterale. L'arcata mediale abbraccerà l'origine del muscolo grande psoas mentre l'arcata laterale abbraccerà l'origine del muscolo quadrato dei lombi. Inoltre tra i pilastri diaframmatici sono presenti anche dei tralci fibrosi che delimitano due orifizi uno per l'esofago e l'altro per l'arteria orta. La porzione costale del diaframma è più semplice e tra i origini dalle ultime sei coste nel punto in cui il diaframma ci viene in contatto. mentre la porzione esternale viene in contatto soprattutto con il processo xifoideo. Ma parliamo ora delle strutture che attraversano il diaframma. Il diaframma presenterà tre grandi fori per il passaggio di determinate strutture. Prima di discutere dell'ubicazione dei fori possiamo osservare come il centro aponeurotico del diaframma detto anche centro frenico o aponeurosi diaframmatica abbia a grosso modo la forma di un trifoglio. Il più grande di tre orifizi quello per la vena cava inferiore si trova a livello dell'incrocio tra la fogliola destra e quella anteriore del diaframma. L'orifizio esofageo si trova posteriormente e più medialmente rispetto all'orifizio cavale ed è formato da tralci muscolari che si staccano dai pilastri mediali. Questa struttura permette il passaggio del diaframma e dei nervi vaghi e compone anche un importante manicotto muscolare che contribuirà a formare un meccanismo antireflusso gastroesofageo Posteriormente e più a sinistra infine è presente l'ultimo degli orifizi quello aortico che è delimitato in parte dai pilastri mediali in parte dal tralcio muscolare che forma la parte posteriore dell'orifizio esofageo all'interno di questo foro passerà la orta addominale la faccia superiore del diaframma è in diretto contatto con le pleure e con il mediastino nella parte centrale mentre la faccia inferiore è in diretto contatto con il peritoneo che avvolge il fegato lo stomaco la milza è in contatto con il pancreas e anche con i reni nel complesso l'azione del diaframma è piuttosto semplice in quanto è considerabile come il principale muscolo ispiratorio tendendosi l'aponeurosi centrale si abbassa poiché il muscolo si accorcia abbassandosi aumenta il volume all'interno della cavità toracica consentendo quindi un'espansione dei polmoni che richiamerà aria dall'esterno per questa ragione si dice che la maggior parte dell'azione ispiratoria è compiuta dal diaframma questo video è stato girato con anatomy learning un'interessante web app il cui link lo trovate in descrizione è